Mark continuando nel gioco accetterai la nostra informativa sulla privacy Sto giocando a Dark? A Dark cosa? ARK Che cazzo sto dicendo figlio? Che lingue stai parlando? Non ho capito Sto giocando a Tomb Raider Una nuova partita Difficoltà generale Ritro di passaggio Tutto uno con la giungla Possessione mortale Astuta ingegnola Ritro di passaggio Mettiamo tutt'uno con la giungla Dai che difficile ci sta secondo me I nemici che indossano un elmo non possono essere uccisi con un colpo alla testa E mi fa sparire il messaggio Ok Ho messo una nuova storia Sì Quanto cazzo ci sta mettendo a caricare sto gioco? Ok Sean non c'è più Non c'è mai stato Sean No è nel gruppo Sì è nel gruppo ma è entrato ma non ha mai parlato da stamattina Per il nostro amico Mike Sherlock Ok No Che stai facendo? Devo tirarla su! Aspetta un secondo perché c'è l'audio di gioco che è veramente... Audio... Questo qui puoi giocare online... Dio... Forza! 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 L'era, sei rimasta figa quanto un altro gioco! Forza! John, mi senti? Forza! Forza! Sono solo incastrata... Una roccia mi blocca la gamba! Aspetta, cerco io! No, sono alle costole della clinica! Non voglio attirare l'attenzione! Sto arrivando! Non ci vorrà molto! Oh! 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 Forza! C'è un bel po' da scalare qua C'è un bel po' da scalare C'è un bel po' da scalare La Trinità è un'antica società segreta antecedente a Cristo Governata da un alto consiglio di stampo massonico I membri della Trinità sono determinati a trovare e sfruttare tutti gli antichi manufatti del mondo Do loro la caccia da quando ho scoperto che hanno ucciso mio padre Da allora io e Jonah abbiamo individuato molte cellule della Trinità Ma le altre tombe e rovine che abbiamo rintracciato sono state distrutte Ad eccezione di quella di Cozumel Devo scoprire il loro obiettivo finale e fermarli John, sono fuori Fa' attenzione, la via d'accesso è piena di trappole Alla Trinità serve ancora Stanno proteggendo qualcosa Sei settimane e ancora non sappiamo chi guida la cellula locale della Trinità Ma ho parlato con la gente del villaggio Sono tutti contenti perché pare che al giorno dei morti verrà un vinto Si chiama Dominguez Dovremmo partire capì Dai Lara, non mi va Ho trovato cellule con la prima forma Stai fuori di casa Giona, ce l'ho fatta Io sto entrando Ci sono quasi Scusa se non ho atteso Attento Scusa se non ho atteso 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 Ringraziamo le note di tuo padre Nicola torna, dice ci siete Con una voce così tipo Da Strabassa Se non avessi la sua visione del gruppo non avrei mai capito da chi si parla Perché è tornato Nicola? Si è tornato Non si sente Parla stravasso E' tornata Questa iscrizione è una specie di enigma Pesci rosa Pesci rosa Si invece Ok filo bloccato Un filo della voce di filo bella Ho perso solo il discorso Si appende a un filo Ma chi potrebbe averlo alterato? Si appende a un filo che lo si spetta Ma Vuoi giocare a qualcosa Mark? Eh devo finire prima la Dobbiamo uscire di qui L'intro di Tomb Raider No No Ma ancora non si calza Sì ma Cristo io Non vi sento Cioè ho il volume tipo troppo alto Aspetta che lo basso Conta che lo sento anche io dovevo Tomb Raider domani sul canale Mark Ma che sta di questo qui? Mi metto Che vuoi Nicola? Ho basato ancora un po' Per chi riuscirà? Per chi riuscirà? Non è che per chi riuscirà no Mark Ho letto fatto il tiro Si sta caricando Forza Forza Presto Avanti Ma che è un problema? Andreu potrei fare gara Se non mi avessi portato via Sarei ancora lì a fare foto Saresti ancora lì? Non a fare foto Sì manca il blueprint e i pezzi A gara di Naruto Puoi riposarti un po'? Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi Buona idea Cercherò di risolvere le nuove Vediamo se la data c'entra qualcosa Giusto È un buon uomo È un buon uomo C'entra qualcosa Comunque Questo caffè Parei che si mangi molto bene Conosco il cuoco Non ho molta fame Però mi mancano un botte di italiani Tipo i Devar O Devar Gli Electro Gli Elexo Coprite Alloy Pirotica Alloy Di Pirotica Alloy Ah Nicolo tu non mi scomparirei dalla faccia dell'Ella verso Cos'è che ha detto sto grassone? Scomparirei dalla faccia dell'Ella verso Ah sì Scomparirei Sento Eccolo là Ci sono novità sul dottor Dominguez Non molte Dirige gli scavi della Trinità in zona Ma quando è spido che sciopi su un altro giorno? Più di una volta è un esperto di me Ma cosa ti interessa se sciopo o meno? Dicono che sia un tipo in gamba Così lo posso scoprire Ah ok Bene Non che mi serve un pretesto per risultarlo Però comunque se c'è va bene Niente contro gli scioponi Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa Sì io ci ho pensato Sono i delfini di cosa si trovano in Amazzonia E continua Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento E guarda qui Questa è la costellazione dell'Idra il serpente E questa stella è il cuore Tramunta sud-ovest Quindi a sud-ovest del rio delle Amazzo Brasile Perù Perù Questa data trovata alle rovine Se guardi con attenzione è danneggiata Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya Ma se fosse in realtà un 8 Con la precisione Sì cioè Mark Sì Ma tu giocando a Wolfenstein hai capito con che criterio ti scende la vita e con che criterio ti scende la corazza? Ok Nel calendario Maya corrisponde a due anni di l'Idra In che senso? Intendi quando si itta no? A quel tempo il cuore del serpente tramontava Sono il Cristo soltanto i lorto di Ravizio Sono il Cristo soltanto i lorto di Ravizio Non ho capito quello Boh penso che la vita ti scende la quando ti beccano in testa e la corazza quando ti beccano in testa C'è anche qualcos'altro che riguarda l'Idra No perché sto giocando Yang Belad e conta che la mia vita ho 5 di vita e 200 di corazza Sì ma a volte mi è capitato anche a me di avere tipo La corazza mi itano ma la corazza non mi scende ma mi scende la vita Boh allora sono dei cecchini allucinanti Penso che sia quando ti colpiscono la testa o vicino alla testa non lo so Madonna Sono i mostri Sì ci ho fatto caso poco tempo fa Quelli della trinità sono armati ho saputo che hanno portato rinforzi Gli starò alla larga Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula Sapranno che siamo stati all'altro silva Strafiga gara Strafiga gara Strafiga Lara Strafiga Lara Cosa Night Volevi dire Sì esatto Cosa devo fare ora? Ah trova Dominguez Cosa è lì in fondo O è esce da questa cosa? Ah sì sì lì in fondo mi sa Però posso parlare anche con questa qua Ma ti rendi conto? L'abbiamo beccato che beveva le offrendas Oh mamma Anch'io da bambina ero di scola come lui Non c'è bisogno di punirlo Spenserà la tequila Ne ha bevuta un bel po' Ok Percafili Boh se vuoi fare qualcosa Tantina avrò ancora per un po' Sì sto giocando World's Man Guarda È per mio padre Forse dovrei accendermi uno per mia madre Non sono abituata a tutta questa gente Meglio gli immortali O gli implacani No va bene così Ma dov'è è questo Dominguez che devo ritrovare? John è al cancello Lo fitto Bene Non devono si chiedere Credo ci sia un altro modo per scavalcare A loro ci penso Ehi ragazzi come va Bene Ma da qui non si passa Mi hanno detto che c'era un bel festino Delle pollastre Toccate da tesi Ovviamente Non è un posto per turisti Non voglio usare la rossa idea Luca in fortuna bountyrance Cazz'è il bountyrance? Cazz'è il bountyrance? Vedo che siete impegnati Non vi farò perdere altro tempo Buona giornata Era da qui Grazie per il vostro Prezioso futuro Ciao John ci sono Va bene Quelle guardie prima non c'erano Dominguez deve sospettare qualcosa Ah di poco Ho bisogno di farmi il Berserker mod Ho bisogno di farmi il Berserker mod Devo seguire questo Dominguez Ma è quello lì Scusa No mi sa che andato avanti Dominguez Con l'alto consiglio comandante Sì signore Anche dopo il fiasco in Brasile Nessuno dubita della sua leadership in organizzazione Ormai andiamo fino in fondo Sì signore Sono pronti a tutto Scusate Oh no 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 John Dominguez non è solo il leader di questa cemina Credo sia anche come la vita Facciamo attenzione Sì sì ho capito Sì Disculpe se è fatta Colpa mia È scattata una trappola nel primo sito Crediamo sia stata croft Aspetta Che c'è Voglio conferme comandante Basta tirare e indovinare In modo di avere conferma visita Jonah Forse mi hanno visto Provo a passare dal vicolo Io troverò un'altra strada Ernesto Dejami insegnarti come hacerlo Doctore Sono giusti su sombre La pudezza non è mai trombata Sei molto gentile Ti ringrazio Seguiamo Più vicina di quanto pensi zio Posso sparare con questo preale Ehi fuori dal mio ufficio Chiudi la porta quando esci Certo Merdo il suo ufficio Lo siento Tranquillo Va a giocare Mai viste letture come quelle trovate in questo sito È la chiave per la fase successiva È il momento Saremo pronti John Sono entrati nella zona di scavo È recintata e c'è una guardia al cancello Troverò un altro modo di entrare Ha una buona visuale Controllo il perimetro Ho un'altra entrata Vediamo se Posso passare magari di qua E devo passare di qua Sì È abbastanza easy Ti hanno mai detto che è un bel culo Lara Ah sì te l'avevo già detto io Guarda Datola alle rovine Da lì non si dovrebbe sentire nulla No no Ti prego Non complicare inutimmente le cose È solo colpa tua Andiamo Che aspetti? Un momento Sono un ufficiale governativo Devo esserci a chi Mi spiace Caro il mio capo anche ora Ma il tuo contratto è terminato No Di breve Posso pagare Ho il fatto Stai tranquillo Lavori per la primità Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del tempio per molti anni Oggi l'abbiamo trovato Devo avvisare mia sorella Sta venendo qui John La Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale Oddio Oddio Devo scoprire cosa stanno cercando Qui comandante Rourke A tutte le unità Prepararsi all'operazione Blackout Ho trovato delle risorse qui Ci sono altre risorse anche qua Ma sparti in quella bocca Che cazzo vuoi? No ma non tu Devo riprenderci un attimo la mano con un Tomb Raider Perché c'è un casino di roba tipo da luttare Ma questo qui Devo cambiare segno dal pubblico E' di cazzo E' di cazzo Ischel Dea della luna piena Oh E questa è Shoshel La luna C'è un'iscrizione Shoshel La chiave si trova oltre il suo sguardo La chiave Eccola Comunque sai figlio che mi sta che ti muto adesso Mi sta sul cazzo Mi sta rovinando il Wolfroo di Tomb Raider E' un Tomb Raider a fare il gioco di merda di Wolfroo No ma va scherzo Cioè in realtà non scherzo No ti dobbiamo dare possibilità a costa Scusa a costa Incesa in corda Ah premi il tasto destro sinistro Comunque Mark si era un boss quel tizio lì Che ti ha commentato a te Ok così dovrebbe andare Solo con tanti iscritti presenti Ah si beh immaginavo E anche quell'altro tizio Sei quello tipo cos'era Di NCS Sì sì Beh immaginavo Dunque Qui in comandante Rourke Voglio il sito sicuro ora Quando arriva il dottor Domíguez Entriamo tutti insieme Ehm dove del cazzo devo andare Devo scendere con la corda Devo scendere con la corda Che cazzo Ah si devo scendere con la corda Che cazzo da Brennere Che cazzo sta qui Preparatevi tutti Il dottor Domíguez sta scendendo Cavolo devo sbrigare Guardate i documenti Non piantere Dai negli spi Oh no No mi da un'altra Ah ok vedi che adesso Posso muovere La stanza guarda 45 Quello che è a livello stono 45 Un po' fatiglia No devo tornare al laboratorio Che cazzo sta giocando Al tuo gioco preferito Angus o Wolfenstein Non si può Non si giocare a giocare Non giochi a altre Non parte Non parte No ma non ho capito cosa hai detto Non si giocare D'altro generale Di giocare a Mark Mark Gioco un gioco Tu devi giocare Non hai giocare Non stai Non stai Non stai Non stai Non stai Più giocando Aspetta Stai giocando ancora a Wolfenstein Mark Non sei sotto No l'ho finito Tanto ricordi Si è caricato un Bride Nel giorno successivo Ma che cazzo Intanto non c'è nel game pass Stai zitto Ma stai zitto Solo perché gioco Beh che il mio fanboy è vero Ma non gioca Sempre a solo i giochi A cui gioco io Beh Doom Eternal E Wolfenstein Sono oggettivamente Giochi validi Non è perché li gioco io Sembra che questa grotta Di solito Sono due Wolfenstein Diversi Ma poi sia a parte Quello che ho giocato io Di Wolfenstein E poi l'avevo già giocato prima Di me Di Angus Perché ti ringrazzate Perché devi Grinda come i grassoni Ed è invidioso Porco Dio Non è che grinda come un grassoni Grinda veramente Ed è un grassone No non è un grassone Angus Ah quello è filo Scusa L'incisione su questo ondolite Mai è troppo rovinata Per leggerla Sono in sovrappeso È tipo Angus A metà Tra sovrappeso e grassone Era per un secco Ok Sono sicuro che Aspetta È vero che qua bisogna Tipo esaminare le cose Per andare avanti Tipo A sviluppare le lingue Voglio limonare Lara Ok Devi vedere come sta a usare le lingue Dovevo aspettare Comunque Mark Sì Eh Lo fai con Angus Il gioco in Cop Non con me Fate diarsi in Cop Voi due Lo possiamo fare anche in tre No Fate voi due Io non voglio Spogliare Dentre la campagna Non appartenendo ancora Beh Può anche giocare E non spoilerarti niente Cioè non è obbligatore Spoilerare Sì Angus Non sono come te Quando stavano guardando Destreina Ce ne voce Nella macchina Prima di andare a scuola Trovo gli spoiler Io canta E sto di cazzo Io non ho mai spoilerato niente Ma scusa Angus Tu mi avevi detto Che avevi già fatto La campagna Con i tuoi amici Niente Davvero 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 Tu che menti allora No No Bella puntabilità Qui c'è altra roba da lottare Tutta in shoot Que parecish Que parecish un'altra parte come attrezzatura insufficiente è necessario il coltello rinforzato magari qua è necessario un coltello rinforzato pensavo fosse qui questo deve andare sotto oh non 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 oddio no 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 oh ma che c... oddio ci stavo per rimanere cazzo certo che trattene il bucciato per un casino riesci a trattenerlo anche se ti fai col cazzo in bocca sali sali che ci rimaniamo con i cazzo i cazzo vedi marco c'è un volto oh dai Devo trovare il tempio che sta cercando Domínguez. Ah, serve il coltello rinforzato ancora. No, cazzo, non mi sono abbassato in tempo, no, bella. Jonah, ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Oh, promette male. Lara, la trinità avanza con gli esplosivi. Ve ne sono accorta, qui crema tutto. C'è una piramide, vedo di raggiungere la cena. No, ma... Oh, Lara, sei una stronza, però non ti aggrappi. Ma guarda te che stronzetta con la putta sotto il naso. Jonah, ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Bene. Oh, promette male. Lara, la trinità avanza con gli esplosivi. Ve ne sono accorta, qui crema tutto. C'è una piramide, vedo di raggiungere la cena. Lara, come sta andando? Bene. Ci sono delle piattaforme che possono aiutarmi ad arrivare in cima. Serve del peso per abbassarmi. Non ti sento più. C'è attività qui. Procedo ad avvicinarmi. C'è una piramide, vedo di raggiungere la cena. Non so se posso aggrapparmi da questa parte. Proviamoci. Ovviamente se è balgata, è ovvio, no? Non mi sa che quella non è la parte giusta. Allora, sta stronza che cade, oh. Ho provato del legno. Allora, devo andare su quest'altra, allora, per forza. Oddio. Oddio. Ah, ok, sì, devo stare un po' vicino al pallo e attaccare a questo qui. Oddio. Non so se vuole, non so se vuole. qui c'è la trabascola